Io quando ti vedo mi si confondono le idee. Ecco una birra chiara, così ti si schiariscono. Io invece ho le idee molto chiare. Ah, Marianne, che cosa stai facendo? Sto a servetto. Vai perdendo tempo. Va a servire gli altri clienti. Guardoni. Che cosa c'è da lì? Ma che mi siete messi in te? Guardate? Guardate? Guardate?